Un foro di proiettile. Il baso. Un topo morto. Cosa l'ha ucciso? Un foro di proiettile. Un foro di proiettile. Un foro di proiettile. Un foro di proiettile. Dobbiamo uscire Serio Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Si direbbe che l'assassino non abbia avuto il tempo di installare una delle sue trappole Grazie 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 Attenzione. 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 Le sue trappole sono sempre più elaborate. Comincio a rimpiangere i buoni vecchi fili tesi. Questo contenitore non c'era prima. Attenzione. Il trasmettitore può ruotare di 90 gradi. Meglio non attraversare la traiettoria dei raggi. Meglio non attraversare la... Qui c'è una base di supporto per un riflettore. Modificare la traiettoria dei laser potrebbe essere una buona idea. Questo apparecchio emette un segnale. Devo spegnerlo. Modificare la traiettoria dei raggi. Questo apparecchio emette un segnale. Oh, merda. La password è cambiata. Congratulazioni, McPherson. Sei ancora viva. Sei più coriacea delle altre. Stai perdendo tempo, figlio di puttana. Presto o tardi l'FBI sarà qui. Esatto. Ho un programma da rispettare. Resta dove sei, McPherson. Ho una pallottola pronta per te. Dove ti nascondi, McPherson? In questo cassetto? No, non sei tu. Questa è già morta. Devo farla finita con questo bastardo. Siccome ha sparso trappole dappertutto, le userò a mio vantaggio. Devo essere più carogna di lui. Se voglio attirarlo da qualche parte, posso chiamarlo al telefono. Ho memorizzato il suo numero. Ho memorizzato il suo numero.